La sfida è con gli altri, sì, ma forse la sfida è principalmente con se stessi, perché lo sport, anche in tutte le sue diverse discipline, è sempre e comunque uno solo. È uno solo dei valori, uno solo nelle intenzioni, uno solo negli insegnamenti, uno solo nella volontà delle persone. Una delle cose che mi piace di più dell'atletica è che è uno sport su cui devi contare nelle tue forze, quindi questa cosa mi motiva sempre a dare il massimo ad ogni allenamento e mi piace. Sostanzialmente hai la responsabilità di portare proprio te a casa il risultato, ti devi impegnare al massimo. Diciamo che sono abituata a provare questa sensazione e anzi, quando poi la provi, senti anche una certa soddisfazione dopo l'allenamento perché sai che hai portato a casa il lavoro per bene. Quando senti la fatica è proprio il momento in cui riesci a migliorare.